Anticipazioni tempesta d'amore, domenica 31 maggio 2020. Annabelle vuole togliere Christophe ogni bene. André e Linda trascorrono una notte romantica insieme. Quando lo chef si sveglia il mattino seguente, la donna è scomparsa nel nulla. André crede che non sia stata bene con lui. Harry non vede l'ora di trasferirsi a Monaco. A seguito di un piccolo infortunio, Jessica trova un anello e presume erroneamente che il veterinario voglia farle la tanto attesa proposta di matrimonio, ma si sbaglia di grosso. Grazie per la visione!